A Barletta le tariffe tari rimarranno invariate. Ieri in Consiglio Comunale bocciata all'unanimità la delibera che stabiliva l'aumento della tassa sui rifiuti per 1.200.000 euro, così come previsto dall'adeguamento all'indice di inflazione del costo di gestione dei rifiuti. Sull'argomento si era consumata una dura battaglia tra maggioranza ed opposizione, a suon di comunicati stampa e interventi sui social. Sino a dieci giorni fa l'amministrazione sembrava orientata ad approvare l'aumento della tari, poi la decisione del sindaco Cannito di fare retromarcia e trovare le risorse per scongiurare ogni aggravio sulle tasche dei contribuenti. Una scelta su cui hanno pesato anche valutazioni politiche. Difficilmente in Consiglio Comunale Cannito avrebbe trovato i numeri per deliberare l'aumento della tassa sui rifiuti, incalzato dal malumore di diversi esponenti della sua maggioranza. In più si sarebbe esposto ulteriormente agli attacchi di PD e Forza Italia, che negli ultimi giorni hanno chiesto e proposto a più riprese soluzioni alternative ad un provvedimento chiaramente impopolare. Nonostante la convergenza finale, in aula non sono mancati botte e risposta tra maggioranza ed opposizione. Il centrodestra ha puntato il dito contro l'incapacità della regione di chiudere il ciclo dei rifiuti, determinando un'impennata dei costi di smaltimento in discarica. Da PD e coalizione civica l'accusa all'amministrazione di non aver saputo mantenere alto il livello di raccolta differenziata, un parametro che incide sulla quantità di rifiuti da conferire in discarica e che determina anche un minor ristoro da parte della regione per poter fronteggiare gli aumenti della Tari. Che voi avete ereditato una raccolta differenziata invidiabile su tutto il territorio regionale, con la sua prima amministrazione Cannito, e nel tempo queste percentuali si sono andate via via abbassandosi. I costi maggiori sono dovuti a tutto ciò che portiamo in discarica. Questo significa che noi paghiamo di più per ciò che non riusciamo a differenziare. Cannito si scaglia contro l'Ager, l'agenzia regionale dei rifiuti, ignorando le sue indicazioni e decidendo in autonomia in quali impianti conferire i rifiuti, ammette il sindaco, il comune ha potuto risparmiare 500 mila euro, risorse che insieme ad altre, rivenienti dagli utili della Barsa, dall'organizzazione della disfida e dal settore sport, permetteranno di non aumentare il costo della Tari. Cannito alimenta il sospetto che la regione favorisca alcuni comuni e ne penalizzi altri. Abbiamo protestato perché Barletta, che ha una media inferiore nei quattro anni a tutti gli altri comuni, si vede ristorare di 213 mila euro a differenza di Andria, che per miracolo fa il 75% di differenziata. Mai visto? Non ci stiamo anche in Italia, 75%, Andria prende 75% e si becca dalla regione un milione di euro, perché la regione stranamente mette 7 milioni di euro a disposizione dei comuni per ristorare dall'aumento della Tari. Strano. Così come mi si deve dire come mai noi paghiamo 2 milioni e 200 mila euro che dobbiamo dare alle imprese private, che sono le discariche, e Andria ne paga soltanto 900. Io me ne vado matto. Non è possibile una cosa del genere. Perché? Perché tu mi hai detto che devi andare là e a te ho detto che devi andare là. E tutto questo probabilmente mi ingegnera un sospetto che ci sia un indirizzo politico. Io non lo voglio pensare, ma nei fatti è così. Ehi Barletti, facci del murì. Non si è discusso solo di Tari durante il Consiglio Comunale di ieri, deliberato anche il conferimento della cittadinanza onoraria all'arma dei carabinieri. Provvedimento votato all'unanimità dei presenti, ad eccezione dei due esponenti di coalizione civica, Doronzo e Di Viccaro, e del consigliere Trimigno, il quale spiega di essersi allontanato dall'aula per un calo di pressione che gli ha impedito di esprimere il suo voto favorevole. Particolarmente onorato per il riconoscimento concesso il comandante provinciale dell'arma, il colonnello Massimiliano Galasso. Vi ringrazio e l'unica promessa, l'unico auspicio che posso fare per il futuro è quello di essere sempre più vicini e che se voi siete accanto a noi, noi è giusto che noi per primi siamo al servizio della cittadinanza e lo saremo sempre di più. Grazie a tutti quanti.